In questo video scoprirai come creare una pagina su WordPress in due minuti. Accedi alla bacheca del tuo sito WordPress, nella barra sinistra clicca Pagine, aggiungi Nuova Pagina, inserisci un titolo e anche un corpo per la tua pagina. Ti consiglio, come abbiamo visto in un precedente video che ti lascio in descrizione, di inserire sempre un titolo e una meta descrizione. Dopo, nella parte destra, avrai due opzioni. Salva bozza, se non vuoi pubblicare la pagina e tenerla da parte in caso di future modifiche, se invece vuoi pubblicarla, subito premi il pulsante e pubblica sempre in alto a destra. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per la visione!